Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Un messaggio di speranza, di passione, un modo di affrontare la quotidianità da un altro punto di vista. Così l'assessore portoferraiese alla cultura Antonella Giuzio ha introdotto lo scrittore Lorenzo Amurri, che venerdì scorso ha presentato nel Chiostro dell'Ogeno, un incontro organizzato dal libraio, il suo libro Apnea. Sono stato gentilmente invitato da Silvia, la libraia dell'Elba, che a tempo fa ha letto il mio libro e mi è piaciuto così tanto che mi ha contattato e mi ha chiesto se potevo venire a presentarlo qui. Chiaramente poi si è messa d'accordo con il mio ufficio stampa e siamo riusciti a organizzarla, davanti è un posto meraviglioso, poi è la prima volta che vengo all'Elba, quindi sono molto contento. È un romanzo autobiografico, diciamo che Grandinini racconta dal giorno in cui ho avuto un incidente sugli sci, la ricovero il primo mese e mezzo in terapia intensiva in Italia, poi la trasferimento in una clinica di Giurigo dove ho passato 9 mesi di riabilitazione e il ritorno a Roma, i primi mesi a Roma dopo e tutto quello che è accaduto in tutto questo periodo. Ma a Montegrandini, chiaramente il libro è a fondo in molti tempi, però a Grandinini è questo.